Si occuperanno della tinteggiatura di garrail, recinzioni, ma anche di elementi di arredo urbano, puliranno strade, sentieri di montagna, parchi e aree sportive, saranno coinvolti in progetti per la coltivazione di orti e addirittura daranno il proprio supporto per l'organizzazione di manifestazioni. Sono solo alcune delle mansioni che vedranno in campo gratuitamente i 31 migranti ospitati presso le case del Sole di Aprica grazie al protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina tra il prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia, il sindaco di Aprica Dario Corvi e il titolare della società Uno per Uno Paolo Cioccarelli che ha in gestione l'accoglienza e il soggiorno dei richiedenti asilo. Un accordo lungimirante, già adottato in altri comuni della nostra provincia, a favore di una giusta integrazione tra migranti e residenti, quindi sia per dare agli extracomunitari un impegno quotidiano, una motivazione concreta in grado di farli sentire utili per la comunità che li ospita, sia per dare un segnale forte ai residenti che vedendo il lavoro sul territorio questi ragazzi possano apprezzarne la disponibilità e l'impegno, intraprendendo con nuovo vigore la costruzione di una vera società che non pone ai margini nessuno ma che dalle diversità trova arricchimento e maggiore forza. Tra i compiti delle parti l'ente gestore designerà un tutor che si affiancherà ai migranti durante il lavoro, mentre il Comune di Aprica, oltre a valutare mensilmente l'opera dei richiedenti asilo, metterà a disposizione tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle mansioni di pulizia, messa in sicurezza e manutenzione del territorio. Infine, tra i compiti della Prefettura, quello di istituire un tavolo tecnico di supporto e coordinamento per la progettazione delle attività, il confronto e lo scambio di informazioni, la promozione di strategie congiunte per fare in modo che l'impegno dei migranti dia delle risposte mirate ai bisogni della comunità e del territorio.